Sequestrate nel territorio di La Mezzia Terme 7500 pianti di canapa indiana. Ad operare il sequestro è stato il reparto operativo della Guardia di Finanza di Vibo Valencia con l'ausilio di un elicottero della sezione aerea della Guardia di Finanza di La Mezzia Terme in un terreno a pochi chilometri dall'A3 Salerno-Reggio Calabria. Le piante di marijuana non in piena fase di maturazione erano state abilmente sistemate a macchia di leopardo in un terreno demaniale lungo il fiume Amato di difficile accesso pieno di rovi e canneti che ne occultavano la vista sia dall'alto che da terra, oltre ad impedirne il passaggio. Dopo opportuna campionatura le piante sono state estirpate e distrutte. La coltivazione a fioritura completa avrebbe prodotto oltre due tonnellate di marijuana.